Oh ma è scura che ho fatto? No... Ha... No ma... C'era di me peperoreggi, sappiamo? Non si sa behaviorizza! Adesso mi fai... Sono beggiati a questo tipo di sorti dell'uncello C'è un po' da caffè Poi dà il caffè Si sapeva più perché torna . Lo spavento o funziona, comunque? No, ma te che ti ingresso di questa roba psicologica? Oh, io solo te che io faccio un po' in tavola in Alisa e gli faccio, ti giuro. E' una roba psicologica. E' una roba psicologica. E' una roba psicologica. Ci vuole poco. Ti giro di scatto, fai così. E' una roba psicologica, questo è rimasto di merda. E' una roba psicologica. Perché ti sono... Ti sono di meglio di che ti distrassi, di un minuto e tu non ti ingresso più. Ma non è che... E' una roba psicologica. E' una roba psicologica. E' una roba psicologica. Se trovi il modo di rilassarti in concerto, ti metti. No, ma se... Non è teoria, eh. Che ti aspetta di singhiozzare... Che pensa singhiozzo. Se pensa singhiozzo, aspetta di singhiozzare, sai che stai singhiozzando e sei in fisso sul singhiozzo singhiozzo. Eh, ma perché stai rigido e... Se tu invece ti... Cioè, con il cellulare è stato abbastanza, non ci sarà più da tanto. E' un altro controllo mica da dire. Ma è che ho un futuro, non c'è questa grafica. Un po' che ne vengo. Io non ho fatto altro. Cioè, lo stai finendo a partecipare le partiglie? No, secondo me... Sì. La città la sigara è stagione? No, ci sbaglio. Oh, ma vuole solo. Stai finendo a 10 gradi. Perché non riusciamo a tuttare il cino? Abbiamo un saluto di lato.